Noi secondo me abbiamo fatto i primi 20 minuti di alto livello con una difesa eccellente su tutti i punti di vista, con controllo del ritmo, controllo dei tiri, controllo dei rimbalzi e poi dopo negli ultimi, nei secondi 20 minuti non siamo stati più capaci a fare quello che hanno preparato nel pre-gara, l'abbiamo fatto solo per 20 minuti, abbiamo concesso dei tiri in transizione, abbiamo concesso dei tiri da tre punti che loro hanno realizzato, ci hanno attaccato un po' più in post basso con i due lunghi e noi abbiamo fatto un po' di fatica. In attacco è vero che siamo stati un po' sterili per tutti i 40 minuti, però non è facile giocare con una squadra così grande, così fisica, dobbiamo tenere la partita come i primi 20 minuti a un punteggio basso, l'abbiamo fatto solamente in parte.